bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video andiamo grande siamo free o farmi come un sì 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 mi dicono mille per frutteto qua va bene per farmo tutto che proprio dici vuota non fa niente cassa via 2 medikit lol dai dai io ho già due medikit e tutti i primi cavoli io sono bene 47 quando 45 pannocchie bravo bravo mi raccomando farmi tutti gli albi si 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 è buona la carne degli animali o non ne va da pena certo certo vabbè si prende quando la prima c'è medici tu vuoi cinque medikit le ha trovati lei o ne ha beccone ha contati ma siccome di quale forza 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 andare a riprendere tutta la legna che c'è il secondo frutteto ok io ho portato quasi tre stack di legna anch'io ne ho portati almeno tre forse quattro lo giro siamo stiamo lavorando veramente bene ogni tanto ci incrociamo uno che porta l'altro che riporta pizza ti dici hai da prendere roba lì ancora no faccio io io non sto farmando il legno ma sto facendo avanti indietro a manetta vai 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 continuo a fare quello che stai facendo questo qua è free win ragazzi se questo è free win abbiamo troppo roba e manca ancora tutta la casa da luttare però è ma io sto farmando legna perché ne abbiamo una casa si chi è con la macchina chi è con la macchina ok voglio recuperare tutta questa legna che c'è qua siamo messi veramente stra bene adesso sto facendo dei avanti indietro quegli stack di legna io non so come sono messo anche perché un po che non leggo la moderazione e la faccio in cera leccio c'è una sfida doppia ma gioco però non mi deve dire nulla e quando siamo lì no però non mi trovarà se lei non parla se lei parla la trollo è semplice io parlo molto calmo non ne farò così devo vincere io e io continuo a dar giù questi alberi che mancano ma siete sicuri vai 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 toglie due ancora per un minuto e 26 io sto io da farmare legno continua ancora per tre minuti non mi sito faccio me di faccia medici ricordami gentilmente sempre f quanto toglie che è importante certo quindi poi quando toglierà inizia da togliere 5 il medico si fa sopra 50 momentaneamente mi serve tranquillità e sapere che toglie la safe che cambia di danno x secondi cambia così l'unica cosa che vinta a 500 pizza anche lei api si tenga si tenga sempre due stack di mele tra i pernotti i medici questa deve iniziare a sbombattarmi tra 30 secondi toglie 5 ok basta così basta non mi muovo più allora quanta vita in questo momento in questo momento ne ho 42 ok quando a 30 di vita faccia il medico col falò col falò quando toglie 5 continua a farmi medici sopra i 50 eh sì sì ma sempre col falò acceso eh sempre col falò acceso faccia così accenda il falò molto semplice mi ascolti accenda il falò acceso bustata 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 e parte col mercati va bene legna ne ho troppa f avrò 8000 di legna qua tanto uno slot di medici si tenga mele medici 2 blocchi di mele un blocco di medici e adesso sono pannocchie non possiamo morire ragazzi non possiamo morire diversa la cosa perché sia morto f no 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 dai come lo vogliono appena visto prestata condule di taxi dare medi gто di diretto perché non si preoccupi non messo hanno avvisato non l'animato non è uguale è uguale dopo farlo raccoglie la legna ovviamente senza muoverti vai e spammi frutta adesso non stia mai sotto con la frutta avvicini quella frutta raccogli sotto quella frutta manetta e saricini non così però vabbè non è un problema se la prende dopo il fuoco è sempre a cannone sempre a cannone del fuoco legna sempre full bravo fammi 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 di più su da non si faccia problemi mangi mangi ma di 7 cavoli di fila 7 cavoli di fila ciò adesso sette di fila 1 2 3 busta prima busta con quarto adesso punto altri tre e prende la roba dietro ma una per volta che sto dio sennò diventa scemo così la legna per terra la venda mangi 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 busti 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 mangi 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 ancora le mangi tutti questi forse un po troppo a posto ora rimanga le mele rimanga le mele e prendi quelle altre bravo vai 5 se vanno occhi e poi mele 5 se vanno vado oggi 5 se vanno occhi 1 2 3 4 5 6 vado di mele mangiali tutte ma tutti tutte dritte busta 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 mangi tutti i cavoli si riberi un paio di slot ok vado di mele ora vado di mele ora finisca le mele finite le mele si mangia quei 10 cavoli che vede 6 e 4 si rimangi tutti i guardi mangi 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 ancora mele e faccio la cosa ho detto adesso non tutto di pila non tutti pila perché sennò va troppo oltre ora le banane che se ne tocca subito si prende la legna buoni ok rianimi bravo un minuto rimanente basta basta una mangiare troppo vado 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 non esageri perché vede uno che per volta mangi 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 sei cavoli mangi sei cavoli mangi sei cavoli così visibili allo slot non metta punti ok a posto ora non si muove più da qua solamente addosso c'ha si cioè è fatta se non voglio vinta si è fatta se non trolla è fatta attenzione gli ultimi 30 secondi 20 secondi stanno andando giù come calmo 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 si agghi ma già mai ci ma diciamo già prendo la prenda lì 6 90 secondo me c'è un silber 6 mangi a cannone tutto mangi tutto ma gà me lo fai io sbagliato tutti qua tutti qua con 16 flopper poi mangi tutto manco con 16 flopper potrebbero sopravvivere guarda guarda che arriva in su no 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 non rischi ah non voglio ma non è che è una in fishing ragazza è una fishing perde quando let's go let's go easy oh yo oh yo eric il passo oh 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 Grazie per la visione!